Il sindaco, poi il suo movimento, Caffè Zuccarello in trasferta, colleghi giornalisti e la nostra direttrice Rosaria Brancato hanno abbracciato contemporaneamente la chitarra e i 25 ex Servi Trail. Ecco a voi il meglio di. La storia sono anche loro. La storia è anche questa settimana di presidio fisso e al momento senza scadenza in cui la vicinanza della città si è sentita. Chi ha cantato, chi ha suonato, chi ha lasciato una firma, una dedica o un semplice pensiero. A tendere la mano ai disoccupati combattenti anche il neorcivescovo Monsignor Accolla. Questa è una forma un po' diversa da quella che abbiamo inscenato cinque anni fa, però il senso è lo stesso. Perché molte persone sono convinte che noi siamo sistemati, invece la realtà è ben diversa. 20 di noi sono stati sistemati, mentre gli restanti 25 ancora siamo così senza lavoro. Loro non si piangono addosso e cantano per lanciare un segnale, per smuovere delle coscienze, ma non mollano, non lo fanno dal 2011.